Benvenuto all'interno del corso di preparazione alla certificazione AWS Solutions Architect Associate. Voglio subito spiegarti perché questo corso è differente da tutti quelli che troverai all'interno di questa piattaforma. Questo corso è stato appositamente pensato e strutturato per farti superare l'esame di certificazione in soli 30 giorni. Quindi non dovrai fare altro che dedicare 2-3 ore al giorno allo studio e senza nemmeno accorgertene alla fine dei 30 giorni sarai pronto a sostenere l'esame. Ma non è finita qui perché all'interno del percorso troverai anche due guide speciali, 10 errori che devi evitare adesso e 10 segreti per superare l'esame al primo tentativo e queste due guide aumenteranno notevolmente le tue probabilità di superare senza problemi l'esame di certificazione. A proposito non mi sono ancora presentato. Mi chiamo Eugenio Fontana e sono un formatore in ambito cloud computing e cyber security con oltre 50.000 studenti formati nel corso degli anni. Ma non voglio annoiarti oltre. Se vuoi saperne di più ti invito a dare un occhio al mio sito eugeniofontana.com dove potrai trovare tutte le informazioni. Detto questo ti saluto e ti aspetto dentro al corso. Ciao!